La buffera sulla FIFA alimenta dubbi sui prossimi mondiali previsti nel 2018 in Russia e nel 2022 in Qatar. L'FBI ha infatti aggiunto l'assegnazione delle Coppe del Mondo nei due paesi nell'inchiesta in corso a livello internazionale. Il Kremlin intanto ha reso noto che non esistono dimissioni che possano cancellare la decisione a favore della Russia e gioca, secondo gli osservatori, soprattutto a ridotto margine di tempo per trovare una nuova sede. All'ultimo congresso abbiamo illustrato i preparativi in corso e non è stata formulata una sola domanda. Tutti sostengono e si fidano della Russia. Oggi io non vedo assolutamente nessun tipo di minaccia. Cattive acque anche per il Qatar, da Doha al ministro degli esseri ribadito che il suo paese ha vinto semplicemente perché ha presentato il miglior dossier, aggiungendo che è razzista e non digerire che una nazione islamica possa ospitare mondiali. Mentre da Londra Greg Dyke, presidente della English Football Association, ironizza Se fosse al posto degli organizzatori del Qatar non dormirei sonni tranquilli, un segnale delle tensioni è arrivato anche dalla borsa che a Doha ha chiuso in ribasso dopo le dimissioni di Sepp Blatter.